Buongiorno e ben ritrovati a questo primo appuntamento con l'informazione su Calabria News 24. Roma, colpo alla cosca a Morabito, Mollica, Palamara, Scriva. Cosenza, cavallo di ritorno, eseguiti quattro arresti. Roccella Ionica, Giova Beach Party del prossimo 10 agosto. Botta e risposta tra l'onorevole Dippodito e l'amministrazione comunale. Ebbene, apriamo questa prima edizione con la cronaca perché la Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale ha effettuato un maxi sequestro tra beni immobili e immobili alla Ndrangheta. Ce ne parla nel servizio Stefania Scarfò. Oltre 170 immobili, 40 aziende, fra cui 7 supermercati di cui uno nel quartiere Salario a Roma, una Ferrari, 4 allevamenti di bestiame, un assegno circolare da 90.000 euro ed una gioielleria in zona Prati. Questi alcuni dei beni rientranti nel maxi sequestro da 120 milioni di euro effettuato dai poliziotti della divisione anticrimine della Questura di Roma nell'ambito dell'operazione Mirata ad attaccare il patrimonio dell'andrangheta a Roma e in altre località del Lazio e non solo. Il maxi sequestro è stato adottato nei confronti di Antonio Placido Scriva, Domenico Morabito, Domenico Antonio Mollica, Giuseppe Velonà e Salvatore Legato. Sono gli esponenti di vertice del gruppo laziale della pericolosa e temuta Ndrina di Ndrangheta, Morabito Mollica, Palamara Scriva, originaria di Africo nel Regino. Gli immobili sequestrati sono dislocati tra Roma, Rignano Flaminio, Morlupo, Campagnano Romano, Grotta Ferrata ed in altre province italiane. L'approfondita attività investigativa ha ripercorso la carriera criminale dei soggetti coinvolti ed ha analizzato le posizioni economico-patrimoniali dei rispettivi nuclei familiari e dei numerosi terzi, evidenziando una notevole sproporzione fra i beni posseduti direttamente o per interposti fittizi e i redditi dichiarati o l'attività economica svolta, ovvero la sussistenza di sufficienti indizi per ritenere che essi siano il frutto di attività illecite e ne costituiscano il reimpiego. Le attività illecite cui i cinque soggetti coinvolti si sarebbero dedicati riguardano i più risalenti sequestri di persona a scopo di estorsione, il traffico di stupefacenti e di armi, nonché i più recenti delitti di estorsione, usure di intestazione fittizia di beni aggravata dal metodo mafioso. Sono state accertate pesanti infiltrazioni in molteplici settori produttivi tramite interposti fittizi, tra cui spiccano Massimiliano Cinti, nipote della noto boss romano e della cassiere della banda della Magliana Enrico Nicoletti. Ci spostiamo a Cosenza sempre per la cronaca perché quattro persone sono state arrestate dai carabinieri della città Abruzia con l'accusa di furto, ricettazione ed estorsione. Le persone raggiunte dal provvedimento restrittivo avrebbero rubato automobili chiedendo una somma di denaro per la restituzione. Il servizio è di Paolo Talarico. Rubavano autovetture e chiedevano soldi per la restituzione. Con l'accusa di furto, ricettazione ed estorsione, i carabinieri della compagnia di Rende hanno così eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare, due in carcere e due agli arresti domiciliari, nell'ambito della persecuzione dell'indagine Scalco al Cavallo del novembre 2018. Il modus operandi era sempre lo stesso. Prima il furto nei confronti di una vittima che successivamente veniva contattata telefonicamente per la richiesta del pagamento di una somma da 200 a 1.500 euro per la restituzione del veicolo. Poi, solo ad avvenuto pagamento, veniva indicato il luogo dove recuperare il veicolo. Quando la vittima non intendeva pagare, le auto venivano smontate e venivano aumentuti i pezzi di ricambio. Nel corso delle indagini sono stati accertati quattro furti, seguiti da altrettanti episodi di estorsione, e sono state arrestate due persone in flagranza di reato con l'accusa di furto di autovettura in concorso. Una delle vittime, inoltre, è stata denunciata per favoreggiamento poiché, a fronte di prove relative alle richieste ricevute, avrebbe negato l'accaduto. E a Roccella Ionica per il concerto di Giovanotti. Botta e risposta e l'amministrazione comunale replica questa volta l'onorevole Di Polito del Movimento 5 Stelle. Non tarda a farsi sentire la risposta dell'amministrazione comunale roccellese in merito alla tappa del Giovan Beach Party in programma a Roccella per il prossimo 10 agosto. L'onorevole Di Polito del Movimento 5 Stelle aveva espresso forte preoccupazione per l'impatto di questa iniziativa, che ovviamente è replicata su 17 spiagge in tutta Italia e potrebbe avere sull'ambiente costiero di Roccella, che egli definisce già molto compromesso e oggetto di una fortissima pressione antropica. Così risponde subito l'amministrazione comunale, affermando che dispiace che un deputato calabrese non sappia che quel litorale da 17 anni è bandiera blu e che di recente, proprio in quel tratto di costa, sia stato definito come la spiaggia più bella della Calabria dalla guida blu di Touring Club e di Lega Ambiente. E che non sappia sempre Di Polito che un litorale compromesso e oggetto di una fortissima pressione antropica non avrebbe nemmeno potuto concorrere alla concessione di quei riconoscimenti. La verità è che il litorale di Roccella, come potrebbe facilmente verificare di persona l'onorevole Di Polito, aggiunge l'amministrazione comunale, è lungi dall'essere compromesso e rappresenta un'assoluta eccellenza in tutta la regione. Saremo felici, dice l'amministrazione comunale, di dare all'onorevole Di Polito tutte le informazioni e gli atti che dice di voler chiedere al nostro comune per verificare l'impatto del Jova Beach Party sulla spiaggia di Roccella, a partire dal piano spiaggia che abbiamo approvato qualche mese fa, dopo aver ottenuto tutti i pareri di impatto ambientale previsti per legge. Piano che nella porzione di spiaggia oggetto di occupazione del concerto prevede la realizzazione di un Natura Village, ossia di un complesso di strutture e attrezzature integrate turistico-ricettive balneari. È del tutto evidente in tal senso l'assoluta coerenza tipologica del Jova Beach Party con le previsioni di utilizzo di porzione di spiaggia interessata contenuta nel piano spiaggia vigente, già soggettato con esito positivo alle dovute valutazioni di impatto ambientale. Aggiunge l'amministrazione comunale, l'onorevole Di Polito dice di voler conoscere in che modo il comune di Roccella intenda intervenire per preservare le dune, la flora e la fauna dell'aria interessata. Saremo felici di constatare assieme a Di Polito qualora intenda incontrarci la reale consistenza della fauna, della frola e delle dune presenti nell'aria interessata e di illustrargli i progetti che abbiamo messo in campo per la loro tutela. Crediamo che la possibilità di ospitare un'iniziativa di assoluto rilievo nazionale concepito come forma, attattamento innovativo e sfidante come il Jova Beach Party non sia, come dice l'onorevole Di Polito, giustificato con i soliti discorsi sul turismo ad ogni costo, ma rappresenti una vera occasione e anche unica per far conoscere la bellezza della nostra costa e dimostrare come con l'impegno congiunto delle istituzioni locali si riesce a accogliere una sfida importante come è quella della messa in piedi degli organizzatori dell'evento. Ci spostiamo nel capoluogo di regione perché a Catanzaro nella caserma Pepe-Bettoia è stata siglata un'intesa tra l'esercito e l'ordine di Malta. Anche in questo servizio ce ne parla Stefania Scarfò. Un protocollo di intesa che suggella una collaborazione già attiva da anni. Nella caserma Pepe-Bettoia di Catanzaro è stato siglato l'accordo tra il Comando Calabria dell'Esercito e l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, ente paramilitare che dalla 1877 svolge attività di assistenza sanitaria sul territorio italiano in cooperazione con il Servizio Sanitario Nazionale, fornendo in particolare il suo supporto in caso di guerre o di calamità naturali. A firmare l'accordo il generale Mario Fine, comandante del Corpo Militare di ACISMOM ed il colonnello Giampiero Battipaglia, comandante del Comando Militare Esercito Calabria. Il nostro corpo ha 143 anni e in questi 143 anni ha fatto proprio questo, dare supporto dal punto di vista sanitario alla Forza Armata. Quindi oggi rinnoviamo anche qui in Calabria questa attività che facciamo da più di 100 anni. Noi siamo una delle attività di volontariato dell'Ordine di Malta. Principalmente eseguiamo quel tipo di attività che ha veramente una storia quasi millenaria, quindi a favore di chi ha bisogno del malato e del povero. In più, la nostra propria figura, quella militare di Corpo Speciale Ausiliare dell'Esercito Italiano, ci porta a dare questo supporto alla Forza Armata. Però facciamo anche delle attività di aiuto umanitario nei confronti di chi ha bisogno. Questo accordo con elementi altamente specializzati nel campo sanitario ci pronisce di essere maggiormente aderenti a quelle che sono le esigenze del territorio calabrese, con una maggiore presenza appunto in Calabria. Andiamo praticamente ad suggellare una collaborazione che ormai già esiste da alcuni anni e in cui creiamo e vogliamo dare quella giusta risonanza ad personale che altrimenti specializzati offrono la loro attività fondamentalmente su base volontaria. quindi una ricchezza in più, un elemento aggiunto a quello che l'esercito fornisce appunto qui in Calabria. E chiudiamo con l'ultima notizia, Sport Calcio, perché il prossimo 16 luglio riparte l'avventura del Cosenza in Serie B. Nel Cosenza Calcio stiamo parlando naturalmente con il pre-ritiro in città dove saranno effettuati i primi test atletici. Il venerdì seguente la squadra allenata da mister Braglia si trasferirà a San Giovanni in Fiore. In attesa che il mercato entri nel vivo ed arrivino i primi colpi, tra conferme e volti nuovi, il Cosenza ha stabilito il programma del proprio ritiro precampionato. I rosso-blu di mister Piero Braglia si raduneranno in città il prossimo 16 luglio. Nei giorni successivi si svolgerà la fase di pre-ritiro dedicata ai test atletici e alle visite mediche. Venerdì 19 luglio è previsto quindi il trasferimento a San Giovanni in Fiore dove la squadra, che alloggerà presso l'hotel Duchessa della Sila, sosterrà a partire dal pomeriggio la preparazione atletica per il prossimo campionato di Serie B sul prato della Valentino Mazzola. Il termine del ritiro è previsto per il 3 agosto. Già calendarizzati i tre test congiunti che si svolgeranno durante il ritiro. Venerdì 26 luglio con la morrone fresca di promozione in eccellenza. Martedì 30 luglio con il Monopoli pronto ad un nuovo campionato di Lega Pro. Sabato 3 agosto infine con il Corigliano ai nastri di partenza da neopromosso della prossimo campionato di Serie D. Bene questa era l'ultima notizia. Prima di salutarvi vi ricordo come sempre che potete seguire la nostra informazione anche sul sito www.calabrianews24.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento dei nostri programmi.